Ciao ragazzi bentornati su top prodotti recensioni prima di iniziare volevo ricordarvi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Oggi andremo a vedere le migliori racchette da tennis per adulti principianti e avanzati. In quinta posizione troviamo la racchetta da tennis Wilson Ultra Power, disponibile in tre diverse taglie per scegliere la più adatta per voi. Racchetta realizzata in materiale di qualità, robusta e durevole, con un design ergonomico per un maggiore comfort. Racchetta progettata per fornire un'ottima stabilità, presenta una struttura che riduce le vibrazioni per un palleggio migliore, trovate il link in descrizione per maggiori informazioni. In quarta posizione troviamo la racchetta Ed Spark Pro, disponibile in due taglie. Con un peso di 270 grammi la racchetta Spark Pro offre ottima maneggevolezza e manovrabilità già dai tuoi primi allenamenti. Tecnologia Metallics e incordatura 16-19, oltre ad essere di ottima qualità avrete in mano una racchetta con uno stile che non passa sicuramente inosservato. In terza posizione troviamo una racchetta da tennis marca Dunlop, la sinistra team disponibile in due diverse taglie. Realizzata in grafite per un peso di 280 grammi avrete da questa racchetta ottimi risultati in termini di potenza e spinta. Tecnologia Aeroskin per ottenere il massimo ad ogni colpo che date. Per maggiori informazioni trovate il link in descrizione. In seconda posizione troviamo il set da due racchette da tennis Senston, racchetta leggera e facile da impugnare per un'ottima esperienza. La racchetta da tennis ha la caratteristica di alta intensità e durata. Combina una buona accelerazione di colpo e un controllo sufficiente della corsa. Dispone di un modello di stringa aperto per migliorare la potenza e la rotazione, inoltre vi verranno fornite due custodie e due ammortizzatori a vibrazione per le vostre racchette. In prima posizione troviamo una racchetta più professionale la Wilson Pro Staff Precision 100, adatta sia per i novizi sia per chi è già dentro a questo sport a livello amatoriale. Realizzata con materiale in fibra di carbonio e basalto renderà la vostra racchetta leggere per avere sensazioni migliori. Impugnatura cushion aire con nastro perforato per una presa comoda e sicura e un assorbimento ottimale del sudore, link in descrizione. Bene ragazzi anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate tutti i link degli articoli in descrizione e se siete interessati, grazie per aver visto tutto il video ci vediamo al prossimo.